Ciao a tutti, oggi volevo presentarvi un programma veramente molto utile che servirà per pubblicare in automatico i nostri post su Facebook anche a computer spento quindi noi lo programmiamo e lui pubblicherà per noi bisogna impostare l'app, quindi associamo l'app al nostro profilo di Facebook in automatico ci rileva tutti i gruppi e le pagine in cui siamo iscritti quindi noi una volta che ci iscriviamo lui si associa al nostro profilo e vedrà tutti i gruppi quindi nel mio caso ne ho 201 le pagine a cui ho messo mi piace sono 100 e le mie pagine sono 4 lui tutto quello che associa al nostro profilo ce lo aggiunge qua così noi possiamo scegliere in quali gruppi pubblicare o meno se vogliamo selezionarli tutti, li selezioniamo tutti se no scegliamo noi quelli che vogliamo pubblicare a determinato annuncio idem per le pagine possiamo selezionarle tutte oppure quelle che interessano a noi poi per pubblicare l'annuncio nella pagina principale qui metteremo il nostro messaggio qui inseriremo il link che di solito se facciamo marketing metteremo il nostro link di affiliazione e qua possiamo allegare se vogliamo anche una foto per allegare la foto basta andare su un'immagine qualsiasi vediamo un po' un'immagine qui a portata di mano se no andiamo un attimo su google immagine mettiamo logicamente una foto dell'argomento quello che stiamo parlando basta cliccare sulla foto qualsiasi tasto destro del mouse copia o l'immagine e poi lo andremo a inserire qua qui metteremo il nostro link di affiliazione qui il nostro messaggio il resto si può anche lasciare vuoto qui è consigliabile mettere 300 che sarebbe l'intervallo tra un post e l'altro se ne pubblichiamo troppi di seguito è facile che facebook ci blocca quindi 300 sarebbero i secondi ogni 300 secondi il nostro link che abbiamo selezionato è pubblicato in ogni gruppo che noi abbiamo scelto in automatico qua possiamo scegliere il giorno che vogliamo pubblicare qui selezioniamo l'ora in cui partirà la pubblicazione dei post una volta confermato tutto pubblichiamo su pubblica tutti quelli che noi abbiamo creato ce li metterà poi qua se io ne ho già creati due noi possiamo creare quante ne vogliamo ci appariranno sempre uno sotto l'altro importante non farli accavallare quindi io ho programmato questo che iniziava alle 7.20 come ogni volta che pubblica su un post appare una freccina verde guardiamo l'orario di fine esempio 19.35 quindi ogni 5 minuti ne pubblica uno a 19.30 finisce la pubblicazione del nostro link allora possiamo far partire quello dopo quindi per non accavallarlo possiamo farlo partire 19.35 o alle 20 basta che non sia che non interrompa i 5 minuti di pausa se no rischiamo di essere bloccati quindi ne possiamo fare quante ne vogliamo anche a pc spento lui puoi programmarlo anche per 5 giorni quello che vuoi avremo un nostro link di affiliazione ogni persona che si iscrive sotto il nostro link guadagniamo la metà del pacchetto quindi noi paghiamo 10 dollari al mese per ogni iscritto ce ne danno 5 quindi con due iscritti uno si ripaga già il servizio molto facile da usare io ho più di un mese che lo uso e non ho avuto nessun tipo di problema grazie a tutti ciao